Per la Lube Civitanova che cerca l'impresa in Polonia, caduti in 3-7 in casa nell'andata dei quarti di finale, la Lube cerca il riscatto sul campo dello Jastrzewski, squadra imbattuta quest'anno nel massimo torneo continentale. I civitanovesi devono vincere per 3-0, 3-1, completando l'opera nel Golden Set. Si gioca alle 20.30. Chi passa il turno sfiderà in semifinale i polacchi dello Zaxa, già qualificati a tavolino. Grazie a tutti.